Il 25 settembre è un anno dalla celebrazione del 27esimo congresso eucaristico nazionale a Matera. La diocesi di Matera Ersina organizzerà una solenne celebrazione eucaristica nella cattedrale della città. L'evento, che nel 2022 ha radunato migliaia di pellegrini provenienti da tutte le diocesi italiane e che vide la partecipazione di Papa Francesco, verrà commemorato con una messa alle ore 18 presieduta dall'arcivescovo Monsignor Antonio Giuseppe Cagliazzo. Il coro diocesano Signum Magnum animerà la celebrazione che sarà seguita da una processione eucaristica con partenza dal Duomo e con arrivo alla chiesa di San Francesco d'Assisi. Questa commemorazione assume un significato particolare alla luce del prossimo 53esimo congresso eucaristico internazionale che si terrà a Quito, in Ecuador, nel settembre del 2024. Per l'occasione, TRM Network trasmetterà durante la programmazione del fine settimana uno speciale accompagnato da una lunga intervista a Monsignor Antonio Giuseppe Cagliazzo il quale si sofferma proprio sull'appuntamento di Quito. Il lavoro sarà poi disponibile on demand sul nostro canale YouTube e in condivisione sulle nostre pagine social. Di seguito, un estratto dell'intervista a Monsignor Cagliazzo. Quasi a un anno dal congresso eucaristico che abbiamo celebrato qui in Italia mi sono trovato in Ecuador, al centro del mondo, appunto come lei diceva, ad aiutare quindi in questa preparazione anche del congresso eucaristico internazionale. È stata un'esperienza meravigliosa, nuova sotto tanti aspetti. Primo, perché è un mondo nuovo e siamo in un mondo nuovo, in una cultura completamente diversa, modi di pensare, di ragionare, di vivere. Anche la Chiesa stessa è completamente diversa da quella che viviamo noi, non hanno le vocazioni che per esempio abbiamo noi. Sono delle parrocchie enormi, grandissime. Pensi che c'è una parrocchia, una parrocchia che è grande quanto tutta la diocesi di Matera e Irsina, anzi forse anche di più perché sono 150.000 abitanti e solo due sacerdoti. Per dire, le differenze sono tantissime. Ma lì ho avuto modo di imparare tantissimo innanzitutto. Al di là di quello che io ho potuto dare anche e che mi è stato chiesto espressamente per l'esperienza vissuta qui a Matera, per cui adesso conoscono tutti Matera anche a livello internazionale, perché c'eravamo i delegati di tutto il mondo.